ciao e buona giornata a tutti sono contiziano sull'altopiano dei sette comuni nel nostro incessante peregrinare alla ricerca di luoghi che ci salvino dall'affa del fondo valle oggi andiamo verso malga fossetta dove lasceremo l'auto per poi incamminarci alla volta dei castelloni di san marco un fantastico labirinto naturale incastonato nella roccia calcarea dell'altopiano da qua un'ora e 15 e siamo ai castelloni andiamo c'è l'aria che fresca il giusto non so che temperatura sia ma non me ne frega niente ancora 40 minuti non pensavo ci volesse così tanto tizi siamo arrivati all'entrata del labirinto tutti i passaggi sono segnati da cartelli numerati che noi seguiremo in ordine sparso non so che Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.